Ancora buona domenica cari amici del canale YouTube, ben ritrovati. Stamattina abbiamo parlato della sconfitta dell'Inter in Champions League. Naturalmente ragazzi si parla anche di semplici sfottò. Ci sono due squadre della stessa città e una di queste perde la finale di Champions. È ovvio che dall'altro lato ci sia del sano sfottò. Credo che sia normale, era accaduto tanti anni fa la stessa cosa a parti invertite. Ora la curva del Milan sta disseminando in tutta la città di Milano striscioni goliardici. Uno è apparso a San Siro e dice Da Sassuolo a Istanbul è passata una stagione, non cambia me niente, resti vice campione. Riferimento al fatto che l'Inter è arrivato secondo in Champions League perdendo la finale e l'anno scorso invece secondo in campionato alle spalle proprio del Milan. ne vi ricordate con la famosa vittoria a Sassuolo e l'Inter che invece a San Siro vinceva ma in maniera inutile. Dunque sano sfottò, goliardia in centro, in periferia, nei diversi luoghi di Milano perché comunque i nierazzurri hanno perso la finale di Champions contro il Manchester City. Naturalmente si parla ovviamente di cose anche di casa Milan in questo video. In particolar modo vi ricordate il nome di Awar, giocatore che il Milan stava seguendo, parametro zero del Lione, è ufficialmente un giocatore della Roma. Come molto probabilmente lo sarà anche in Dica, altro giocatore a parametro zero che il Milan stava seguendo. Entrambi giocheranno con la maglia della Roma. L'altro obiettivo, Tilemans, anche lui seguito sia dalla Roma che dal Milan, la Roma praticamente su tutti gli obiettivi del Milan, però andrà a giocare all'Aston Villa. Questo per segnalare che è il momento di concludere, di chiudere, di stringere i parametri zero perché sono i primi giocatori che vengono accaparrati dalle altre società. Quindi è il momento di stringere. Il Mian sta provando a farlo per Turam, almeno cercare di prendere questo giocatore. Marcus Turam, attaccante del Borussia Mönchengladbach, giocatore di 25 anni, classe 97, tra l'altro nato in Italia, Parma, lui però è francese, quindi sarebbe un altro francese nella scuderia di Milanello, sarebbe un connazionale di Teo Hernandez, di Mignan, di Olivier Giroud, tant'è vero che andrebbe proprio ad aiutare Olivier Giroud nella prossima stagione, tanto che Giroud ha ancora un altro anno di contratto. Un metro e 92, un giocatore forte fisicamente, ha segnato la scorsa stagione in 30 presenze, 13 gol, migliorando comunque rispetto all'anno precedente lo score. Giocatore che sta decidendo, perché ha un'offerta molto più importante dal punto di vista economico da parte del Paris Saint-Germain, però il Milan gli garantirebbe sicuramente più visibilità, perché giocherebbe di più, perché sarebbe protagonista, sarebbe al centro del progetto, invece al Paris Saint-Germain, come al solito, sarebbe uno dei tanti. È un po' il discorso che l'anno scorso si faceva con Renato Sanchez, che però ha scelto, tra virgolette, il denaro del Paris Saint-Germain, piuttosto che la titolarità al Milan e al Paris Saint-Germain, il giocatore gioca poco, tra l'altro è quasi sempre infortunato, ma gioca molto poco, quindi di conseguenza i giocatori prima di fare delle scelte devono pensarci bene, devono riflettere bene. Pressing alto da parte di Furlani, da parte dell'amministratore delegato rossonero su Turam, sperando che questa volta il Milan possa portare a casa almeno un giocatore a parametro zero. Tra l'altro ci sarebbe anche Kamada, giapponese, anche lui in uscita dal line track di Francoforte, e praticamente c'è già un accordo di massima con il Milan, però l'attaccante è fondamentale. Il Milan prova a chiudere Turam, il giocatore ci sta pensando, sta riflettendo, e ora bisogna solamente sperare che scelga il Milan piuttosto che altre squadre. Attenzione anche all'Atletico Madrid e al Barcellona, oltre che al Paris Saint-Germain, perché insomma sono tutte squadre e società che hanno fiutato l'affare di un giocatore che vorrebbe, pensate, intorno ai 5-6 milioni di euro di ingaggio, non sono pochi, li guadagna Leao al Milan quelle cifre, quindi sono cifre che comunque difficilmente il Milan arriverebbe a mettere sul piatto, però lo sta convincendo, prova a convincerlo, ecco, ci prova con altri modi. Quindi vedremo, sinceramente al momento non so come può andrà a finire questa storia, facciamo solamente cronaca e poi successivamente magari daremo un commento alla situazione di calcio-mercato. Ci sono anche delle dichiarazioni piuttosto strane da parte del CT dell'Algeria su Ben Nasser, perché forse noi ci dimentichiamo che uno dei titolarissimi di questo Milan, come Ben Nasser non lo vedremo per parecchio tempo e l'anno prossimo la sua assenza si farà sentire parecchio, anche perché parliamo di un titolarissimo insieme a Tonali, Ben Nasser che mancherà, secondo il comunicato del Milan, per almeno sei mesi, probabilmente qualcosa in più, però il CT dell'Algeria su Ben Nasser dice infortunio raro e complesso. Mi piacerebbe averlo per la Coppa d'Africa. La Coppa d'Africa si gioca a gennaio, quindi c'è ancora timore che il giocatore per gennaio possa non farcela. La questione è che se Ben Nasser non va in Coppa d'Africa vuol dire che rimarrà fuori per 7-8 mesi. Quindi il CT dell'Algeria tra l'altro dice delle cose un po' particolari, dice non possiamo speculare sull'infortunio di Ben Nasser, la stampa non lo sa e il suo club non ha comunicato con precisione i tempi di recupero. In realtà il Milan dice almeno sei mesi, però ecco, sai cos'è il segreto medico? Dice il CT dell'Algeria, 4 mesi, 6 mesi, 7 mesi di indisponibilità, non possiamo saperlo con esattezza. E' un infortunio molto raro alla sua età e complesso. Getto un po' di ombre, ecco, il CT dell'Algeria, mancava solamente il CT dell'Algeria su Ben Nasser. Ovviamente mi piacerebbe avere Ben Nasser per la prossima Coppa d'Africa, tuttavia non posso fermarmi a questo. Il fatto è che sia assente, lavoreremo riempiendo la sua posizione, cercando di vedere altre cose, altri giocatori. E con la speranza che Ben Nasser possa farcela per l'inizio del prossimo anno. Quindi parlo di inizio 2024. Questa è un po' la speranza sia del Milan che del CT dell'Algeria. Chiudiamo con Paolo Maldini. In questi giorni hanno parlato praticamente tutti su Paolo Maldini. Si è aggiunto anche a Riedo Braida, che dice che i sentimenti non si possono comprare né vendere. Nei giorni scorsi ho sentito Paolo Maldini per esprimergli il mio affetto e la mia vicinanza. Da milanista dico che i Maldini rappresentano la storia e che fondamentalmente nella vita di un uomo, e anche per me è stata nella vita di un uomo, è che per me questa storia è stata calpestata. La storia del Milan naturalmente si riferisce a Braida. La questione è che da quello che abbiamo capito Maldini in questi giorni è davvero molto triste, molto giù di corda, giù di morale. Non si aspettava questo licenziamento, non si aspettava di essere allontanato. Sì, aveva intenzione di fare un colloquio, un faccia a faccia, di dire le sue cose come sempre fa senza peli sulla lingua al proprietario, a Gerry Cardinale. Non si aspettava evidentemente un licenziamento dopo 15 minuti di colloquio. Questo lo possiamo garantire da parte di Maldini e Massara. Persone vicino a Maldini e Massara li descrivono davvero come giù di morale, tristi per questo epilogo, epilogo che chiude almeno per il momento la storia dei Maldini con il Mien e vedremo se poi in un futuro ci sarà un possibile ritorno, ma non credo a breve. Insomma, poi il calcio a volte prende delle pieghe molto particolari, ma al momento non c'è alcuna possibilità di un ritorno di Paolo Maldini, che ribadisco lo descrivono molto giù di corda, giù di morale. e non poteva essere altrimenti, visto che è stato allontanato da una sua creatura come il Minan. Lui è sempre stato al Minan, il papà, il figlio, lui, Paolo. Quindi sono giorni complicati, giorni duri, serve tempo per smaltire la delusione, serve tempo per smaltire questo tipo di scelta, però le strade ormai si sono separate, il Mien va avanti senza Paolo Maldini sperando che questo mercato possa rinforzare la squadra rossonera perché le altre formazioni già si stanno cominciando a muovere. Vedi la Roma che ha preso a guerra, sta per prendere Indicà, insomma deve fare anche la Roma una campagna acquisti importante, Napoli, Inter e Juve comunque potrebbero rinforzarsi. Quindi è un mercato molto molto particolare quello di questa estate. Il Minan non può sbagliarlo, il Minan deve assolutamente aumentare la qualità della rosa altrimenti rischia anche l'anno prossimo di non entrare nelle prime quattro che lo sappiamo ormai è vitale per le squadre che ambiscono a rimanere ad un certo livello. Ci vediamo nella giornata di domani, un abbraccio a tutti e a presto.